Pescara come ponte ideale di pace con Funambolica, la 17esima edizione, 50 artisti da 10 paesi in esclusiva nazionale nel capoluogo adriatico con le novità più prestigiose del cerco mondiale e un focus sull'Ucraina, ma non mancherà una rappresentanza russa. Taiwan, Australia, Messico, Ucraina, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Belgio, Ungheria, Spagna. Per il 17esimo anno il Festival Internazionale del Nuovo Cerco, ogni estate sold out, tutti i numeri per candidare Pescara come capitale italiana dell'arte più antica e diffusa al mondo, quella del cerco. Il Festival, prodotto dall'ente manifestazioni pescaresi e curato da Raffaele Deritis, ideatore e direttore artistico, anche quest'edizione, dice, si snoda come sempre in tre appuntamenti esclusivi per Pescara, che tra ricerca e tradizione soddisfano sia il pubblico di ogni età che gli appassionati provenienti da tutta Europa. Gli artisti quest'anno vengono da ben dieci nazioni diverse, da tutti e cinque continenti, saranno quasi 60 artisti distribuiti nei tre tradizionali appuntamenti. Quindi si comincia sempre con l'anteprima al porto turistico, grazie alla collaborazione fondamentale del Marina di Pescara, che ci mette a disposizione i suoi luoghi, dove sarà eretto il tendone del Circo Zoe, quindi dal 12 al 18 di giugno. La loro nuova creazione si chiama Deserans, è uno spettacolo particolare, nuovissimo, che mette insieme gli acrobati con il canto lirico e la musica elettronica, quindi è molto sorprendente. Poi si proseguirà con l'Ucraina. Il 4 di luglio al Teatro d'Annunzio, lo spettacolo ucraino-cecoslovacco che si intitola Boom e il Teatro d'Annunzio, sempre, il 7 e l'8 luglio, ospiterà due repliche dello stesso spettacolo, che è il Gran Galà du Cirque, per la sua quindicesima edizione. Un evento all'insegna della rinascita, dopo il Covid e della speranza, per regalare un sorriso di cui tutti abbiamo bisogno, alla conferenza stampa, tra gli altri, presenti anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, gli assessori Carota e Cremonese, Walter Meale, presidente dell'ente manifestazioni pescaresi. Avremo la presenza di uno spettacolo interamente rappresentato da artisti ucraini e nel Gran Galà ci saranno anche artisti russi, quindi veramente gettiamo i ponti e non più muri per far riavvicinare queste due nazioni.